Bellissimo zaino di dimensioni contenute, ma molto capiente e con tante tasche anche esterne, un buon tessuto resistente, molto leggero da portare scontato del 38%, in più è prime, quindi la consegna in un giorno lavorativo dall'acquisto. Buona la qualità prezzo, affrettatevi a comprarlo, visto che è scontato del 38%, vi lascio in descrizione video, il link affiliato Amazon.